La conta delle persone decedute dovrebbe essersi fermata a distanza di diversi giorni dal violento sisma che ha colpito l'Albania ed in particolare le città di Durazzo e Tumane, concluse nella serata di ieri le operazioni di ricerca e soccorso con gli ultimi corpi ritrovati, purtroppo quelli di una mamma con i suoi tre bambini, estratti dalle macerie della loro villetta di Treppiani a Durazzo, dei vigili del fuoco italiani. Il conto finale segna 49 persone decedute tra cui 4 bambini e 17 donne, mentre i soccorritori erano ancora al lavoro. In realtà la terra non ha mai smesso di tremare. L'ultima potente scossa di magnitudo 4.8 è stata registrata ieri sera a pochi chilometri a nord di Durazzo. In precedenza, poco prima delle 12, ne era stata rilevata un'altra di magnitudo 5.1. Insomma, uno scenario particolarmente delicato con gli sfollati circa 2000 trasferiti nei diversi alberghi e nelle scuole del territorio da cui un particolare aiuto è arrivato proprio dall'Italia e dalla regione Puglia. Due, i campi predisposti dalla protezione civile, sia della Puglia che dal Molise, già operativi e per cui il contingente di volontari, esercito e vigili del fuoco sarà lentamente ridimensionato. Già stanno rientrando infatti i primi volontari della struttura regionale che lasceranno il posto alle autorità locali. Resta ampio invece il contingente delle misericordie che assieme alla confraternita locale di Elbasan e dalla Caritas Albania continua a portare assistenza sanitaria ed assistenza logistica non solo nei grandi centri, ma anche e soprattutto nei centri più piccoli del circondario. Messe a disposizione degli ospedali pugliesi invece circa 150 posti letto secondo le diverse specializzazioni. Attualmente c'è un ferito politraumatizzato alla testa ricoverato presso il Policlinico di Bari e arrivato due giorni fa in elicottero partito da Tirana.